La cosa bella è che questa associazione svolge questo ruolo, che è un ruolo sociale molto importante per il nostro territorio, per la nostra città, durante tutto l'anno. Quindi questa è la conclusione di un percorso che loro fanno durante tutto il corso dell'anno e lo fanno anche con una certa serietà, con una certa professionalità. Vanno proprio a ricercare e a premiare, come diceva lei, proprio chi ha portato un valore aggiunto al nostro territorio un po' più in generale. La diciannovesima edizione, quindi un plauso va al Presidente, ovviamente per l'estrima, un po' a tutto il suo staff, tutta l'organizzazione, che ovviamente continua a mantenere vive delle manifestazioni che se non fosse per la loro caparbietà, la loro continua ricerca di voler migliorare, di dare sempre qualcosina in più al nostro territorio, non sarebbe possibile. Quindi un ringraziamento lo facciamo noi come città metropolitana, come comune di Reggio Calabria, a loro che invece ci stimola quotidianamente ad essere presenti e ovviamente lo facciamo con enorme piacere.